Abbandoniamoci al giorno e tutto muovi Abbiamo avuto l'opportunità di fare un cartellone ricco proprio per dire e dare un segnale di ritorno alla normalità per far sì che la gente possa tornare ad incontrarsi e coniugare la musica, la bella musica di una grande artista a livello nazionale con una cornice come questa sicuramente è un passo importante anche dal punto di vista del percorso culturale che si intende fare in questo territorio quindi ritorniamo dopo due anni a pensare di poter trascorrere insieme qualche serata di poter condividere momenti di divertimento e perché no di riflessione con la buona musica